Carlo Diotallevi capogruppo in consiglio comunale della lista civica per cambiare di Mondolfo tanti temi sui quali siete intervenuti negli ultimi giorni cominciamo dalle polveri sottili dopo l'ordinanza del sindaco Cavallo hai sottolineato come la situazione si possa definire a dir poco allarmante ma non ti sei limitato a questo e hai lanciato anche alcune proposte quali? L'allarme polveri sottili è emerso a Mondolfo e Marotta sin dall'anno scorso abbiamo evidenziato come i dati della provincia fossero preoccupanti mentre il sindaco e l'assessore all'ambiente l'anno scorso avevano sminuito anche confutando i dati emersi in realtà gli sforamenti nel nostro comune sono arrivati nel 2011 a 31 sforamenti su 35 massimi stabiliti dalla legge e c'è da considerare che nel mese di gennaio non c'era neanche l'apparecchiatura quindi probabilmente li abbiamo anche sforati quindi il problema c'è, si è perso un anno di tempo oggi finalmente il sindaco ha messo delle ordinanze creando una zona blu anche a Marotta cosa che da noi non si era mai vista chiaro che non basta questo, come dicevi giustamente dobbiamo fare di più, dobbiamo secondo noi rivedere le politiche ambientali e urbanistiche del nostro territorio dobbiamo premere con forza sulla realizzazione e prolungamento da complanare tra Marotta e Fano in modo tale da liberare il traffico anche Marotta-Centro ma soprattutto portare avanti una serie di iniziative come quella che abbiamo presentato un bosco per la città per far sì che aumentino e siano destinati a parchi e a verde sempre più zone del nostro territorio questo consentirà di vivere meglio e di abbassare anche i dati di inquinamento soprattutto poi bisognerà farsela finita, detto proprio in maniera spicciola di realizzare zone industriali e artigianali a ridosso dei centri abitati ma bisogna avere uno sviluppo più organico, armonico e potenziare i trasporti pubblici Rimanendo su temi ambientali, negli ultimi giorni non hai parlato solo di polveri sottili ma avete presentato anche delle interrogazioni su amianto, turbogas e anche fotovoltaico Sì, sono temi che a noi stanno sempre molto cari da sempre La questione dell'amianto è tornata alla ribalta dopo la sentenza di Torino che ha condannato i titolari di Ethernet ma anche dopo queste nevicate quando i carichi di neve hanno provocato rotture in molte aziende, in molti capannoni, in molte coperture di amianto quindi abbiamo presentato un'interrogazione proprio al fine di far sì che venga censita tutta questa situazione, che tutte le aziende e i capannoni vengano censiti e che soprattutto si intervenga presto per far rimuovere queste coperture che sono in amianto e sono particolarmente pericolose non ci sono più alibi, ormai anche la legge ha parlato chiaro dobbiamo intervenire senza scuse Per quanto riguarda il discorso della turbogas proprio l'altro ieri si è votato in Consiglio Comunale un ordine del giorno che noi abbiamo avanzato diciamo di concerto con il Comitato Valcesano Sostenibile è un ordine del giorno che ha visto un voto unanime di tutto il Consiglio Comunale che recepisce insomma un messaggio forte sia verso la Regione ma anche verso il Ministero per chiudere quanto prima questa pratica perché questa grande centrale provocherebbe proprio ricollegandomi al discorso delle PM10 un forte aumento di PM10 che non è tollerabile né per la salute ma neanche per lo sviluppo turistico ed economico della nostra vallata Per quanto riguarda invece il fotovoltaico lo stesso abbiamo presentato un ordine del giorno che tende diciamo a limitare quello che è lo sviluppo del fotovoltaico non tanto in sé per sé perché è una cosa pulita che ci piace ma sul terreno sul terreno è una pratica che esiste davvero solo in Italia che purtroppo vedono le marche tra le prime regioni di utilizzo del territorio per il fotovoltaico è una cosa assurda si deve fare a fotovoltaico lo si deve fare sui tetti delle case sulle coperture delle zone artesanali e quindi questo ordine del giorno va in questo senso così come adesso il decreto del governo Monti in questi giorni proprio che va a rafforzare questa cosa però ecco siamo in linea con questo e chiediamo sempre maggior tutela per il territorio e per il nostro turismo Cambiamo argomento recentemente è stato anche approvato un vostro ordine del giorno sul turismo ci spieghi di che cosa si tratta? Sempre nella seduta del Consiglio Comunale dell'altro ieri è stato votato un ordine del giorno presentato da sottoscritto da Nicola Barbieri e da tutti gli altri consiglieri comunali della lista civica per cambiare che in sintesi avanzava una proposta concreta nel senso di istituzionalizzare il discorso del bilancio del turismo come fosse diciamo il bilancio ossia con un preventivo quindi un programma che deve essere votato prima del bilancio con tutta la linea guida in termini turistici per tutta la stagione e poi un consuntivo a fine anno da fare insieme anche a tutte le associazioni di categoria e che si occupano di turismo del sviluppo del territorio in modo tale da avere anno per anno proprio una situazione un programma chiaro di quello che l'amministrazione vuol fare e di quello che è riuscito a fare questo è stato votato all'unanimità e quindi adesso già da quest'anno da prima del bilancio verrà inserito e votato il programma per il turismo verrà discorso e quindi il Consiglio Comunale inizierà finalmente ad occuparsi di turismo e questo non verrà relegato soltanto all'assessore o alla giunta ma tutto il Consiglio Comunale di Mondolfo finalmente parteciperà alla stesura di questo programma turistico e questo è importante proprio per poi verificare a fine anno quelli che sono gli obiettivi raggiunti o meno e per soprattutto rilanciare il nostro turismo Ultima domanda torniamo su un tema a voi molto caro quello della viabilità viale delle regioni complanare la situazione attuale qual è? La situazione di Marotta soprattutto di Mondolfo ma soprattutto di Marotta che ha visto un grande sviluppo è critica davvero lo dicevamo prima per quanto riguarda le PM10 ma il problema è proprio anche della gestione del traffico e del suo sviluppo il viale delle regioni ad esempio che è il viale principale insomma di Marotta dove si riversa gran parte del traffico dove il centro abitato è più numeroso vive una situazione di difficoltà anche perché l'amministrazione ha creato una pista ciclabile in una strada già molto stretta quindi il rischio della salute sia in termini di polveri sottili ma anche proprio di pericolo stradale è aumentato di smisura noi chiediamo di rivedere l'intera viabilità di via delle regioni di modificare quella che è l'attuale scelta dell'amministrazione che è davvero molto molto pericolosa e soprattutto per far questo ecco chiediamo di potenziare diciamo le infrastrutture proprio attraverso il prolungamento della complanare e anche questo diventa un dato fondamentale e vitale perché avendo una complanare che bypassa il centro storico di Marotta e quindi tutto il centro ovviamente questo alleggerirebbe sia l'inquinamento ma anche il traffico su Marotta stessa quindi cambiare la viabilità di Marotta e di via delle regioni ma al contempo puntare anche sulla complanare perché altrimenti senza queste opere il traffico di Marotta e la situazione diventerà sempre più grave Grazie a tutti